Ciao, Alessio, da Milen, Italia. Voglio raccontare con voi oggi la mia idea sul trattamento dei piedi. Stiamo trattando l'orbicularis oculi, qui abbiamo i muscoli zigomatici e quindi voglio trattare questa parte, in mia opinione, sempre con un'injectione centrifugale. Molte volte vedo altri discorso e doktori che sono in questo modo o in questo modo che, in mia opinione, è vero. La right injection per il crossfit è centrifugale in questo modo, qui, qui e qui. Potremmo in questa parte, questa è la right direction, ma anche superficially e non troppo profondamente.